Quando suona il mio telefono il primo pensiero è quale sarà la questione da risolvere. Però è molto bello questo, perché direi che ogni giorno è una sfida. Riesco a fare questo lavoro con determinazione, ma anche con molto divertimento. Questa scuola offre una grandissima attenzione al singolo. Questo liceo è un liceo scientifico delle scienze applicate, per cui rispettiamo la tradizione del liceo scientifico, però con una vena di grandissima modernità. Il latino non è previsto, c'è un'attenzione particolare ai laboratori e direi la compresenza nella cura della lingua inglese e anche dell'informatica. L'obiettivo è, sì, il bagaglio culturale sicuramente, ma soprattutto aiutare questi ragazzi a crescere con grande fiducia in se stessi e in grado di assumersi anche le loro responsabilità.